Scade il 14 dicembre 2022 il termine di presentazione per il bonus cargiver. La regione siciliana al distretto di Otto, che comprende Caltanissetta, Degliari, Suttano, Riesi, Santa Caterina, Villarmosa, Sommatino, ha destinato 66.377 euro per i cargiver, ovvero gli assistenti familiari dei disabili gravi, e 35.741 euro per i cargiver familiari dei disabili gravissimi. Per la presentazione delle istanze per il bonus un attantum e riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, possono presentare istanze di accesso al beneficio i cargiver dei disabili gravi e gravissimi residenti nel territorio del distretto sociosanitario Otto. Gli istanze e gli allegati sono disponibili sul sito del Comune e dovranno essere presentati al Comune di Residenza del disabile entro e non oltre il 14 dicembre 2022. Nell'istanza dovrà essere indicato l'anno o gli anni per cui è richiesto il contributo. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza per ciascun anno di riferimento, non sarà possibile ammettere le richieste di più cargiver della stessa persona affetta da disabilità. I casi poi saranno valutati dalla Commissione di Valutazione delle istanze, che sarà nominata dopo la scadenza dell'avviso e che attiverà la procedura di soccorso istruttorio.